Mi 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 Oggi sono qua per darvi la mia prima impressione, la mia prima infarinatura riguardante il nuovo capitolo della saga di Call of Duty, ovvero Call of Duty Ghost. Allora, di sottofondo non state vedendo dei gameplay completi, in quanto in questo primo giorno di gioco, infatti oggi è ancora il primo giorno in cui sto facendo questo video, non sono riuscito a fare nulla di esorbitante, non sono riuscito a fare la chem strike, non sono riuscito a fare il 100+, ho giocato soprattutto come fate tutti voi, come fa tutta la gente che non pensa molto ai video, come facevo io fino all'anno scorso con i vecchi Call of Duty, ovvero provavo a scoprire le armi migliori, provavo a salire di velocemente di livello e quindi ho giocato prettamente in quella maniera lì. Quella maniera di giocare mi è piaciuta abbastanza, infatti ho anche portato a termine qualche partita carina come quelle che state vedendo in sottofondo, infatti sono tutti piccoli spezzoni tratti da diverse partite che comunque ho registrato perché adesso sono riuscito in qualche modo a mettere a posto l'elgato, ora me le registra tutte e quindi sono molto contento perché riesco a registrare e a portarvi tutte le partite. Comunque, intanto inizierei dicendo che come prima impressione il gioco non mi aveva fatto impazzire, perché questo? Perché mi aveva fatto abbastanza arrabbiare il fatto che non riuscivo ad uccidere molti nemici, che molte volte morivo da dietro, quello probabilmente era il fatto delle mappe, perché ci sono delle mappe davvero molto grandi e molte volte dopo, diciamo, un po' di tempo che giri per la mappa senza trovare nemici, ti annoi e decidi di buttarti in mezzo alla mischia, questo lo capisco, io lo facevo troppo spesso e quindi molte volte andavo a morire in modo davvero davvero stupido. Comunque, dopo, un altro errore che mi sono accorto di fare è quello di quello che io chiamo prendi e gioca. Perché? Perché io ho preso il gioco, mi sono creato la prima classe con le prime specialità senza neanche leggere e ho giocato. Ragazzi, non lo farò mai più su nessun Call of Duty. Perché? Perché fino a poco tempo fa non riuscivo a fare gameplay, infatti avevo un ratio anche abbastanza, non dico basso, però sul 1,30-1,40, non uno che mi piace tantissimo, e il ratio vittorie sconfitte 0,60, perché io ragazzi gioco quasi solo in solo. Poi ragazzi, è arrivato mio fratello e mi ha detto, Alec, ma ti sei fatto una classe seria? Io, pensandoci, ho pensato di no, non mi ero fatto una classe seria. E ragazzi, vi posso giurare che appena mi sono creato una classe, non dico forte, ma dico decente, sono andato molto meglio. Infatti, ragazzi, mi sono creato una classe davvero davvero molto buona a mio parere, che adesso andrò a consigliarvi subito. Allora, i perks che ho usato sono quelli famosi anche dagli altri Call of Duty, infatti ho utilizzato Predatore, ho utilizzato Gioco di Prestigio, ho utilizzato, mi pare, Destrezza, quello dove c'è, che ti arrampichi più velocemente, non mi ricordo bene il nome. Poi ho utilizzato Mira Stabile, che è Mira complessiva aumentata, e quindi diciamo che, come in classe, è venuta fuori molto molto buona. Come arma, ho deciso di mettere l'SC 2010 oppure il Vector K10, che sono entrambe armi molto molto forti, una dagli scontri a fuoco a lunga distanza, quale può essere l'SC, e l'altro, come il Vector, uno molto molto semplice, dagli scontri, soprattutto a breve rato di fuoco. Comunque, diamo un po' di impressione riguardo questo gioco, inizierei dicendo che mi piace davvero davvero tanto. Come prima impressione, come detto prima, non mi aveva fatto impazzire, invece adesso mi ha catturato davvero molto. Infatti anche fare questo video mi scoccia perché è perso tempo di gioco, adesso non vorrei fare l'esagerato, ma mi sto divertendo davvero tanto perché una volta che ci prendi la mano diventa davvero un bel gioco. Poi ho fatto anche alcune belle partite morendo a poco dalla famosissima chem strike, infatti sarò morto a volte a 20, però lì mentre non registravo perché è appunto da un'oretta che sto registrando. E quindi aspettatevi in futuro un bel po' di chem strike, in quanto, non so, però mi sembra che può essere una cosa molto molto alla mia portata questa chem. E mi sa anche di molto molto bella come ricompensa, non troppo originale perché è una piccola copiatura di quella che era la MOAB, comunque mi sembra davvero una ricompensa di quelle valide, di quelle che potranno rendere il gioco ancora più pieno di obiettivi e di varie cose che lo potranno rendere molto avvincente. Io giocherò quasi sempre con Specialista, come vedete anche qua sto sempre usando la serie Specialista, che comunque non è uguale a quella di MV3 perché non si assumeranno tutti i perks dopo le 8 uccisioni, bensì si assumeranno solo 8 perks a scelta, più i 3 normali, più i 3 Specialista, quindi alla fine si avranno 14 perks. E comunque direi che è un gioco che secondo me merita, quindi se voi ancora non l'avete preso e siete in dubbio, io vi consiglio di prenderlo. Poi lo so, altri youtubers hanno detto che non è il massimo, ma comunque fidatevi di me, questo gioco merita. Quindi ragazzi, qui il video è quasi finito, adesso in questi giorni arriveranno anche qualche live e qualche commentary riguardante qualche bella partita che probabilmente riuscirò a tirare fuori, in quanto essendo solo all'inizio non sono ancora riuscito a portare a termine la famosissima chemo ormai, però aspettatevene tante in futuro, magari anche con cose strane e cose simili, perché se sono riuscito a portarvi così tanti nuclear che avevo il gioco da due mesi, aspettatevi molto su questo Call of Duty Ghost. Spero che comunque sia il Call of Duty Ghost che mi dia una piccola svolta su YouTube, perché mi piace davvero tanto. Quindi ragazzi, io vi saluto per oggi, dammi di noi è tutto e bella!